Benvenuti ragazzi in un nuovo video di Mr. McIntosh e oggi faremo l'estrazione per i 5 vincitori del giveaway di iSkySoftiTube Studio for Mac. Ebbene sì, il giveaway è scaduto circa 10 giorni fa e purtroppo non sono riuscito a farlo prima con l'estrazione, poi sono stato malato e ho avuto problemi anche con la scuola, ho dovuto studiare e così. Come potete notare si sono di nuovo riabbassate le visualizzazioni. Ciò è accaduto poiché ho ricevuto un altro paio di segnalazioni. Come vedete abbiamo collezionato un tipo di avvertimento per ogni Norma e la Community e Copyright. E nelle Norma e la Community abbiamo due avvertimenti che scadranno tra 6 mesi, quindi che ci disabilitano alcune funzioni, e sono per video di Don't Serve e di Adobe CSI Master Collection. E poi abbiamo una segnalazione di Copyright che è su ScreenFlow. E se riceverò più di due avvertimenti, il mio account verrà sospeso. E questo avvertimento scade il 5 novembre 2014, quindi il video è stato disabilitato, ho perso tutte le funzioni possibili, quindi tutte le funzioni che potevo avere sono state disabilitate. In pratica è come se non avessi nulla. E i video li posso solo pubblicare, in poche parole. Quindi purtroppo questo è accaduto. Però non mi farò scoraggiare, continuerò a fare video sui download gratuiti, riprendendo appena il ritmo, ora che arriva l'estate. Detto ciò, andiamo a vedere quanti sono stati e chi sono stati i partecipanti. Abbiamo avuto 8 partecipanti. E come vedete sono Christoph, LightTarker, Davide Romagnoli, ScamTube, AppleItalia, TheGamerRoli, OmarinoGaming, poi Quoci02. E come vedete questa volta abbiamo superato il numero. E niente, ho già inserito i dati qui sul suo Deo e adesso andiamo a vedere chi sono i vincitori. Cliccando su questo semplice bottone ci dice di aspettare un momento per favore. Noi aspetteremo. E niente, quindi io vi ringrazio per aver partecipato. Spero che i vincitori saranno soddisfatti di ciò che riceveranno, per l'appunto. E vi ricordo che nella descrizione trovate il link della review. E i vincitori sono Davide Romagnoli, AppleItalia, Quoci02, OmarinoGaming e TheGamerRoli. Quindi i 5 vincitori sono loro. Io li ringrazio tutti di aver partecipato. Mi dispiace per chi non ha vinto, ma tanto presto farò altri giveaway. Assolutamente. Quindi contatterò in privato i vincitori. Se questo video vi è piaciuto vi invito a mettere un mi piace, anche per avere altri giveaway così. Consigliate il canale agli amici. Io vi ringrazio ancora. E un saluto. E al prossimo video ragazzi. Grazie.